Musica 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 Hai voluto che mi butta da qua? Ma avete saputo che è successo oggi? Musica Musica E Dario ha saputo che bisogna registrare un video delle cover della zia Ciao bimbie Ciao bimbie Benvenuti in un nuovo video Musica 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 Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina per non perdervi nessun video Musica 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 Al mio tre andate a mettere like Uno, due, tre Like Andate a seguire Lazio Su Instagram e su Ticket Talk E mettete lì tanti like alla zia Mi è stato domandato perché ci sono tante cover davanti a noi è perché la zia le fa E ora le faceva Le faceva E ora mi si fanno vedere una per una Ok allora Alice e Dario vi mostreranno una piccola parte delle cover In un video precedente vi ho detto che ho un grande laboratorio In questo laboratorio venivano fatte anche queste E ora vai Alice ti rilascio la parola Allora le mie preferite sono questa qua Che allora come sapete Ve l'ho già detto sempre negli altri video Mi piace il blu e l'azzurro Quindi sentite Poi la seconda mia preferita è questa Per la stessa regola Ma tutto il blu le sta prendendo lo sapete? Poi mi piace tanto anche Questa Sono Dario e mi conoscete già E quale sono Dario le tue tre preferite? Verde perché Hulk spacca Questa Solo questa Si dice I nostri colori preferiti sono questi Anche se A me mi piacciono anche tanti altri colori E cover che ci sono più Qual è il vostro colore preferito? Scrivetecelo nei commenti O i maschi Qual è il vostro colore preferito? Scopritelo nei commenti Se il video vi è piaciuto Lasciate tantissimi like E vi mandiamo un grande bacio E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.